I alunni dell'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso di Torre del Greco per la giornata della Terra 2020 hanno piantato nella villa salvo d'acquisto alcune piantine per non dimenticare l'importanza di tutelare l'ambiente. Dopo il periodo difficile a caso dell'emergenza sanitaria i bambini e le maestre della De Nicola Sasso si sono finalmente rincontrati per una giusta causa. A loro fianco il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palumba e l'assessore agli eventi e alla cultura Enrico Pensati che hanno espresso tutta la loro gratitudine per l'operato degli alunni. Dopo l'incontro a Palazzo Baronale con i ragazzi della De Nicola Sasso siamo qui alla villa salvo d'acquisto dove i ragazzi hanno voluto piantare delle piantine che poi loro stesso le cureranno. Questi sono gli atti belli, sono gli atti dei ragazzini, sono gli atti che praticamente noi come amministrazione, come genitori, come non ci attendiamo che vengono fatte più spesso all'interno dei nostri spazi perdi. E' una giornata che ci rende tutti contenti perché andiamo a celebrare quella che è una risorsa mondiale che è la tutela dell'ambiente. Lo facciamo con i nostri ragazzi, con le nostre scuole e di questo ne siamo felici, anche perché lo facciamo dopo un periodo sicuramente difficile per tutti. Questa può essere l'anticipazione del nuovo anno scolastico, quindi davvero grazie ai docenti che hanno lavorato su questo progetto e grazie ai ragazzi per essere qui oggi.